Benvenuti in Quervo e Sobrinos. Quervo e Sobrinos è un marchio di orologi di lusso nato a Lavana, Cuba, nel 1882 da Ramon Fernandez Quervo. Il marchio ha una lunga tradizione di produzione di orologi di alta qualità, che combinano la raffinatezza cubana con la precisione svizzera. Dal 1956 al 1880 e nel 1996 l'azienda è stata nazionalizzata dal governo cubano, il che fece subire un periodo di declino al marchio Quervo e Sobrinos. Fino a quando nel 1997, Luca Musumeci e Marzio Villa decisero di far rinascere il marchio, aprendo rivenditori prima in Italia e Spagna, poi negli Stati Uniti, Russia e Germania. Portando nel 2002, ad esporre Quervo e Sobrinos a Basel World in Svizzera, presentando le nuove collezioni Esplendidos, Prominente e Torpedo. Gli orologi Quervo e Sobrinos si ispirano all'epoca d'oro di Cuba negli anni 40 e 50, un'epoca caratterizzata da un'atmosfera di eleganza e stile unici al mondo. Questo stile unico è stato portato avanti dal marchio Quervo e Sobrinos, che ha continuato a produrre orologi di alta qualità con uno stile raffinato e sofisticato. Uno dei modelli più iconici di Quervo e Sobrinos è il Torpedo, un orologio ispirato al design degli strumenti di navigazione degli anni 30 e 40. Il Torpedo è disponibile in diverse versioni, con una cassa in oro rosa o acciaio inossidabile e un quadrante in nero, argento o blu. Il modello Istoriador, invece, è un orologio classico e sofisticato con una cassa tono, un quadrante con numeri romani e lancette a spada. Il design del quadrante richiama l'atmosfera di Cuba negli anni 40 e 50, un'epoca caratterizzata da eleganza e stile. Il modello Istoriador è disponibile in diverse versioni, tra cui una con una cassa in oro rosa e un quadrante in madreperla. Un altro modello iconico è sicuramente l'orologio robusto. Questo modello è caratterizzato da una cassa in acciaio inossidabile spessa 45 mm, un quadrante nero e una lancetta dei secondi al centro in blu. Il robusto è un orologio moderno, ma allo stesso tempo si ispira alla tradizione e all'eleganza di Cuba degli anni 40 e 50. In generale, gli orologi Quervo e Sobrinos sono molto apprezzati dagli appassionati di orologeria in tutto il mondo. Il marchio è noto per la sua combinazione di tradizione cubana ed eleganza svizzera, che dà vita a orologi di alta qualità con uno stile unico e inconfondibile. Se siete alla ricerca di un orologio di lusso che unisca la tradizione e l'eleganza in modo unico, Quervo e Sobrinos è sicuramente un marchio da tenere in considerazione.